E' stata fissata per il 13 maggio l'udienza per la discussione sulla richiesta di archiviazione, formulata dalla Procura di Milano, per l'accusa di istigazione a delinquere che era stata contestata a Matteo Salvini a seguito della denuncia di Carola Rechete, la nota ex comandante della Sea-Watch 3. Denuncia presentata nell'estate del 2019 e relativa ad alcune esternazioni del leader della Lega sui suoi profili social. Con le quali attaccava l'attivista tedesca. Salvini. L'accusa. Istigazione a delinquere e diffamazione. Dalla stessa querela. Invece. è scaturito un processo a carico del segretario leghista per il reato di diffamazione. Dopo la citazione diretta a giudizio firmata dal PM Giancarla Serafini. Nel frattempo. Il legale di Rechete. L'avvocato Alessandro Gamberini. Aveva depositato istanza di opposizione all'archiviazione per il reato di istigazione a delinquere e l'ufficio GIP ha fissato udienza per la discussione a maggio. Poi. Arriverà la decisione. Le gravi affermazioni sui social del leader leghista. La denuncia per entrambi i reati. Diffamazione e istigazione a delinquere. Era stata depositata il 12 luglio 2019 alla procura di Roma e gli atti erano poi stati trasmessi a Milano. Dove risiede l'ex ministro dell'interno. Nella querela Rechete lamentava di essere stata definita. Tra l'altro. Sbruffoncella. Fuorilegge. E. Delinquente. Rechete. Attraverso il suo legale. Aveva parlato nell'atto di. Puro strumento propagandistico e istigatorio di un. Discorso dell'odio. Che travolge ogni richiamo alla funzione istituzionale. Per la procura. Però. Nelle affermazioni di Salvini non si ravvisano profili di istigazione a delinquere. Il processo per diffamazione. Con al centro quelle frasi sui social. Deve ancora iniziare. Udienza non fissata.